Dal Vangelo secondo Marco Una buona domenica a tutti. Le due foto che vedete sullo sfondo sono state scattate a Gerusalemme a fine Ottocento. Forse le avete viste su qualche libro e potranno anche urtare un po' la vostra sensibilità, ma sono state collocate per introdurci nel contesto sociale del tempo di Gesù. Infatti la condizione dei lebrosi di due secoli fa non era molto diversa da quella della Palestina di duemila anni fa al tempo di Gesù. Vedete quella foto? È stata scattata lungo il cedron. Notate che c'è la chiesa dove c'è la tomba di Maria. È lì che si trovava questo gruppo di lebrosi. Sono completamente soli, non c'è nessuno accanto a loro, hanno in mano delle padelle dei tegami in cui si aspettano che qualche persona compassionevole venga a dare loro un po' di cibo. Nella stessa condizione si trovano i lebrosi dell'altra foto. Non c'è nessuno accanto a loro, sono emarginati dalla società. Per quale ragione era questa la condizione dei lebrosi? Perché la malattia della lebra deturba, sfigura la persona, la rende ripugnante, scostante e poi era anche incurabile. Il lebroso allora incuteva paura, poteva contagiare e tutti cercavano di stare lontani dal lebroso. Il lebroso veniva abbandonato anche dai familiari e poi emarginato dalla società. Ricordiamo quello che diceva il levitico. Il lebroso deve vivere lontano dagli altri, rivestire degli abiti strappati e gridare quando qualcuno si avvicinava state alla larga perché io sono lebroso. Normalmente vivevano in grotte o in capanne e il loro sostentamento dipendeva dalla carità dei parenti o di persone misericordiose che recavano loro un po' di cibo, lo deponevano, poi si allontanavano e il lebroso si avvicinava e prendeva quello che la carità di qualche persona buona consegnava loro. C'è un'espressione molto forte nel libro dei numeri riguardanti il lebroso. Dice che è uno, è come uno a cui suo padre ha sputato in faccia. Erano dei morti viventi perché la vita era in relazione e i lebrosi erano emarginati. E quello che è peggio è che veniva insegnato dai rabbini che anche Dio non voleva aver nulla a che fare con i lebrosi, quindi non solo erano emarginati dagli uomini ma allontanati anche da Dio. Curare un lebroso equivaleva a risuscitare un morto. Risuscitare un morto lo poteva fare solo Dio, ma i lebrosi non potevano chiedere a Dio di essere guariti perché Dio stava lontano da loro. È la situazione più disperata che si possa immaginare. In Israele quindi questa lebra da sempre era ritenuta l'immagine del peccato e della morte perché ciò che si vede nell'ebroso si riproduce nell'uomo peccatore. Le caratteristiche dell'ebroso riflettono, sono l'immagine dell'uomo che vive nel peccato. E proviamo a pensare che cosa caratterizza la persona affetta dall'ebra? È ripugnante, è scostante, è esattamente il modo con cui si presenta il peccatore. Pensiamo per esempio chi è egoista, chi è arrogante. È una persona scostante, non può essere amata una persona così, è brutta, l'avaro, il dissoluto, l'attaccabrighe. Sono scostanti, gli imbroglioni, gli arrivisti non sono persone belle. Non ci si rapporta volentieri con gente così, è esattamente come si fa con i lebrosi. Si cerca di tenerle alla larga queste persone perché sono brutte persone, brutta gente, da cui è meglio non aver nulla a che fare con loro. Vengono di fatti isolate, non ci si fida di loro e si pensa anche che non possono mai cambiare, rimarranno sempre persone brutte. Pensiamo anche all'umanità leprosa, dove si commettono guerre, le violenze, un'umanità brutta. L'umanità dove un bambino conta meno del denaro è brutta, un'umanità lebrosa. Molti dicono anche, sarà sempre così, è incurabile la bruttura di questa umanità. Ma chiediamoci, è davvero incurabile questa lebra spirituale? Ecco la domanda a cui risponde il brano evangelico di oggi. Il peccatore non guarirà mai? Rimarrà sempre brutto? È impossibile un cambiamento. Leggiamo in questa luce, in questo simbolismo, l'episodio narrato nel brano evangelico che adesso ascoltiamo. In quel tempo venne da Gesù un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva Se vuoi, puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse Lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui, e egli fu purificato. Ho detto prima che la situazione in cui si trovava il lebroso era disperata. Dio era l'unico che lo poteva purificare, ma lui non poteva rivolgersi a Dio perché era impuro. Nel Tempio di Gerusalemme non c'era nemmeno un angolino in cui un lebroso potesse entrare. Come non c'era posto per i pagani, non c'era posto nemmeno per i lebrosi. Non potevano avvicinarsi a Dio. Questa è la nostra concezione di Dio, una concezione dalla quale non riusciamo a staccarci. Che è questa? Se tu sei brutto, sporco, cattivo, Dio non ti guarda, sta lontano da te. Si avvicina, ti vuole bene, ti sorride. Se tu sei bello e se fai delle opere buone, se sei simpatico, allora lui ti sorride e poi ti accoglierà nelle sue dimore eterne. Questa è l'immagine di Dio che è stata inculcata anche nelle nostre menti e nei nostri cuori. Dio ama chi è bello, chi è buono, ma chi è brutto, sporco e cattivo, no. Dio lo guarda male. Questo lebroso si trova nella condizione in cui ritiene che Dio non si possa avvicinare a lui, non ci si possa rivolgere a Dio perché lui lo rifiuta. Ma questo lebroso si avvicina a Gesù. Probabilmente doveva averne sentito parlare di questo Gesù che parlava di un Dio diverso e allora gli si avvicina e lo supplica in ginocchio. Non gli chiede la guarigione, chiede di essere purificato. Ciò che gli preme è di essere considerato un uomo, uno che si rapporta con gli altri. E adesso noi vedremo ogni dettaglio del racconto perché ha un significato e ha un messaggio. Primo dettaglio. Gesù mosso a compassione dice la traduzione della CEI. Perché? Perché legge nel testo originale greco Splanknitheis, quel famoso verbo Splanknizomai, Gesù mosso a compassione. Ma qui c'è un problema testuale, dicono i biblisti. Perché? Perché c'è un altro verbo che è molto diverso e che ha la probabilità di essere quello giusto, quello originale, che è Orgistheis, che è esattamente l'opposto. Indignatosi. E di fronte a questa alternativa i biblisti hanno una scelta obbligata da fare, che è scegliere il testo più difficile. E il più difficile non è certamente Gesù che è stato mosso a compassione, ma che si è indignato. E noi sceglieremo questo. Perché è questo che è il testo originale da tenere. È un modo di ira di Gesù. Questa situazione. Cos'è che ha mosso Gesù a indignarsi? Faccio un esempio che forse ci aiuta a capire che cosa ha provato Gesù di fronte a questo lebroso che era rifiutato da tutti e che adesso si accosta a lui. E faccio l'esempio di ciò che accade anche a me. Quando incontro persone che magari si sono allontanate dalla chiesa e allontanate da Dio a causa della predicazione che hanno ascoltato. Ricordo per esempio Rita Levi Montalcini, questa stupenda figura di donna, alla quale è stato chiesto se credeva in Dio e lei rispose. Io invidio i credenti perché l'uomo esige una risposta al senso del suo esistere, ma non posso credere in Dio, in quel Dio di cui mi hanno parlato, un Dio che punisce coloro che hanno sbagliato nella vita. Non ci posso credere. Ecco, quando io incontro delle persone che hanno abbandonato Dio e la chiesa a causa di una predicazione che ha deturpato il volto di Dio, vi assicuro, provo questa reazione interiore, mi indigno, perché non si può presentare questo volto di Dio che contraddice il volto del Dio di Gesù di Nazareth. E le guide spirituali del tempo di Gesù avevano inculcato nella mente e nel cuore di questo povero bisognoso di misericordia la convinzione che era uno scomunicato, un rigettato da Dio e questa situazione fa indignare Gesù. Ecco il verbo giusto e corretto, è orgistheis, non splanchnistheis. E difatti i biblisti dicono, è questo il verbo da tenere. Gesù si è indignato di fronte a questa realtà in cui è stato collocato quest'uomo a causa della presentazione di un'immagine deturpata del volto di Dio. È l'indignazione di Dio di fronte alla predicazione che falsa la sua identità. E qui inizia adesso il capovolgimento dell'immagine di Dio e tutti i gesti di Gesù ci parlano del vero Dio, come si rapporta Dio con queste persone che sono brutte, repellenti, ripugnanti a causa della malattia. Non una malattia materiale, adesso noi capiamo il simbolismo di questa lebra, è la conduzione dell'uomo peccatore. Che cosa fa Dio? Il Dio di Gesù di Nazareth, quello degli scrivi e dei farisei, rigettava il lebroso, il vero Dio, che noi vediamo adesso splendere sul volto di Gesù di Nazareth. Come si rapporta con il lebroso? Primo gesto, lo accarezza. L'espressione che viene impiegata è importante, stende la mano. C'è un'espressione ebraica che ricorre spesso nell'Antico Testamento, dice Dio, io stenderò la mia mano. Ma quando Dio stendeva la mano nell'Antico Testamento c'era da aver paura, perché voleva dire che interveniva contro i peccatori. Per esempio quando stende la mano sull'Egitto cominciano le piaghe dell'Egitto, stende la mano. E qui l'Evangelista impiega proprio questa espressione, Gesù stende la mano. Ma quando Gesù stende la mano non è per punire, ma è per salvare. Quando Dio stende la mano sull'uomo è solo per benedirlo, per abbracciarlo, qualunque sia. La condizione in cui si trova, anzi, è proprio quando ha bisogno della sua carezza che Dio gli si avvicina e stende la sua mano. Eccolo il vero volto di Dio, non quello predicato dai rabbini. Lo tocca. Lo tocca e lui non poteva farlo. Perché? Perché se toccava il lebroso lui diventava impuro. A sua volta non poteva più essere avvicinato. Doveva essere anche lui allontanato. Ecco, qui è Dio che tocca il lebroso senza paura di venire contaminato. E noi ci dobbiamo lasciare toccare dalla mano di Gesù di Nazareth. Perché abbiamo tutti dei segni di lebra e quando noi veniamo toccati dal suo Vangelo, diveniamo subito più belli, più simpatici. E cosa dice Gesù? Lo voglio, sii purificato. Voglio che tu ritorni nel consesso umano. E subito la lebra è scomparsa. Ecco questa parola che dove arriva umanizza, rende belli. E non è Gesù che è diventato impuro. È l'impurità che è stata vinta. Dove arriva lui, dove giunge il suo Vangelo, l'impurità, le brutture, il volto disumano e ripugnante scompare. E adesso c'è una reazione sorprendente di Gesù nei confronti dell'ebroso che è stato purificato. Sentiamolo. Gesù, dopo aver purificato questo lebroso, dopo averlo accarezzato, lo ammonisce severamente e lo caccia fuori. Il verbo che viene impiegato, è un verbo molto forte, vuol dire sbuffare, brontolare. Beh, cosa aveva fatto di male questo lebroso? Da venire ammonito severamente e poi di essere cacciato fuori, cacciato fuori da dove non pare che fossero in una stanza, anzi certamente erano all'aperto, quando si avvicina questo lebroso. Vediamo questi due dettagli che sono molto importanti. Il primo, l'ammonimento severo di Gesù. È il rimprovero che lui fa all'ebroso. E di che cosa lo rimprovera? È di avere creduto che Dio lo aveva escluso dal suo amore, di aver dato l'adesione alla predicazione che era stata fatta sul volto di Dio. Come hai potuto credere in un Dio che tiene lontane le persone che sono impure? E diciamo subito, questo è un ammonimento molto attuale. Perché? E questo lo trovo anche nella mia esperienza di biblista. Quando si annuncia il vero volto di Dio, quello che brilla sul volto di Gesù di Nazareth, ci sono sempre delle reazioni di chi vuole perpetuare l'immagine di Dio che ha interiorizzato, un'immagine che non lo rende felice, che non lo rassalena, che non gli dà gioia, ma la vuole trattenere. Chi dà l'adesione a questa immagine di Dio ha delle responsabilità e quindi deve ritenere rivolto a sé il rimprovero severo di Gesù. Se tu continui a coltivare questa immagine blasfema di Dio, tu hai delle responsabilità. E poi lo caccia fuori. Lo caccia fuori da che cosa? Non da una stanza. Lo caccia fuori da questa mentalità, da questa adesione a una predicazione falsa sul volto di Dio. E alla fine gli dice non dire nulla a nessuno. Per quale motivo? Perché c'era una profezia molto nota di Isaia, quella del capitolo 35 di Isaia e capitolo 35 e 61, in cui dalla quale i rabbini avevano tirato fuori una lista di segni della presenza nel mondo del regno di Dio e uno di questi segni era la guarigione dei lebrosi. Gesù non vuole che si diffonda la notizia della guarigione da lui operata. Perché? Perché potrebbe essere interpretata come un miracolo e quindi soltanto come un prodigio e letta quindi come la presenza del Messia secondo però l'immagine di Messia che loro avevano. Gesù vuole che il volto del Messia compaia nella sua giusta dimensione e questa lo vedranno soltanto dopo che tutto sarà compiuto, che è il Messia che dona la vita, non il dominatore. Gesù vuole che questo lebroso non parli del miracolo, non è del miracolo che deve parlare perché questo potrebbe portare ad equivoci. Gesù deve invece testimoniare al sacerdote ciò che è accaduto. Gesù lo manda dal sacerdote per offrire ciò che Mosè ha ordinato per la purificazione a testimonianza per loro. Che cosa deve andare a testimoniare questo lebroso? Deve testimoniare che la predicazione che loro fanno sul volto di Dio è errata. Dio non sta lontano dall'uomo lebroso, Dio accarezza, Dio abbraccia il lebroso. È questo che deve testimoniare che è venuto il volto di Dio autentico che splende ora sul volto di Gesù di Nazare, un volto di Dio che non è quello predicato dai maestri della vita spirituale di quel tempo, è esattamente l'opposto. Sentiamo adesso che cosa fa questo lebroso purificato. ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Quegli uscito fuori, exelzon, abbiamo già detto prima che non era in una stanza, uscito fuori da quella concezione di Dio. Gesù l'ha tirato fuori dall'adesione alla catechesi che era stata data su Dio. uscito fuori cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, dice la traduzione, ma il testo originale dice che ha cominciato a divulgare tonlogon. Il messaggio non è andato a divulgare il miracolo, il fatto, non c'era bisogno di predicare che lui era stato guarito, bastava guardarlo e i sacerdoti avevano già dato a lui il certificato di guarigione. E qui c'è ben altro che lui va ad annunciare. E c'è un accumulo di termini nel brano di oggi. Dice che ha predicato, ha divulgato instancabilmente il messaggio. E qual è il messaggio che lui è andato ad annunciare? È che Dio non è come era stato presentato. Dio non discrimina gli uomini, offre a tutti il suo amore. Questo è il messaggio che questo lebroso divulga ed è il primo catechista che noi troviamo nel Vangelo secondo Marco. Il primo catechista è colui che pensava di essere rifiutato da Dio e adesso va ad annunciare a tutto che Dio non è così. Dio ama tutti, indipendentemente dal comportamento delle persone. Qualcuno potrebbe dire ma allora io faccio quello che voglio. Sì, Dio ti ama, ma guarda che se tu fai quello che vuoi rimani brutto, scostante, lebroso. Dio ti vuole far diventare bello, ma ti vuol bene partendo da quando sei brutto. Ma lui ti vuole riportare nel consesso umano dove vieni accolto. È questa bella notizia che ogni persona che è stata liberata da una certa immagine di Dio deve portare agli altri. L'esperienza dell'amore di Dio dal quale il lebroso pensava di essere escluso e questa esperienza adesso la va a divulgare, ad annunciare a tutti. E la conclusione del brano evangelico è molto significativa. Prima il lebroso era lontano dal consesso umano. Gesù ha toccato questo lebroso e adesso Gesù non può più entrare, dice il brano evangelico, pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti. Esattamente il luogo dove si trovano i lebrosi e vengono a lui da ogni parte. È molto bella questa conclusione perché il volto di Dio che brilla sul volto di Gesù è proprio questo, il Dio che sta là dove ci sono i lebrosi. E soltanto quando la gente vede questo volto di Dio che è innamorato di ogni uomo, anche di quell'uomo che è ripugnante a causa del suo peccato, ecco che la gente corre a lui perché solo questo è un volto amabile di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.